Gentili telespettatori, buona giornata. Con l'aria condizionata in auto, attenzione ad accendere l'aria condizionata in auto se avete caldo perché la multa è da 444, non 666 ma 444, 444 euro. 444 gatti in fila per 3 con il resto di 250, vabbè, sto inventando ovviamente. Ma la notizia è questa, l'aria condizionata in auto, tenerla accesa mentre si è fermi o in sosta, cioè tenere il motore acceso e l'aria condizionata accesa, si rischiano molte salatissime, mentre in marcia è consentito rinfrescarsi col condizionatore della vettura in funzione. Se ci fermiamo a bordo strada, in una piazzola con fuori 50 gradi, col cemento che ti viene fuori su il calore infernale, invece il discorso cambia. Perché, come spiega bene il Corriere della Sera, è una norma del 2007 modificata nel 2010 e poi aggiornata negli importi nel 2014. Quindi, se, non so, arriva un vigile, un poliziotto di nascosto, perché per beccarvi con l'aria condizionata accesa, devi vedere che è accesa, no? Quindi se qualcuno spunta dal finestrino e cerca di vedere senza i riflessi, così, no? Nel finestrino, se avete l'aria condizionata accesa... Oppure dice, il rumore della macchina è troppo alterato, mi sa che tu hai l'aria condizionata accesa, no, 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 un caldo, che caldo che fa qui dentro? Ma, sicuro, perché sento, c'è uno sbalzo d'aria, no? È che siamo partiti da casa, la macchina era al chiuso, quindi c'era bel fresco, la macchina era in cantina. Qual è lo scopo della legge? Limitare l'inquinamento. Ma attenzione che non sono poche le persone multate per questo motivo, perché non lo sanno. Il problema è che non lo sanno. Allora arriva la polizia, ci abbassa il finestrino, buongiorno agente, è agente una fava, hai l'aria condizionata accesa, e dice, beh, ci mancherebbe con sto cacchio di caldo, se vuole accomodarsi. Dice, ma io le devo dare una multa da 444... Che? In che senso? Cosa avrei fatto? La gente non lo sa. La gente non lo sa, eh, quando abbassa il finestrino, eh, 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 ce l'ha riaccesa, eh, ci mancherebbe altro. Perché faccio, so scemo, la chiudo con sto caldo. Devo dare la multa, eh. La multa era 218 euro. Qualche anno fa un automobilista di Como fu multato dalla polizia locale per 218 euro, perché si era fermato a margine della carreggiata con motore e aria condizionata accesa, per fare qualche telefonata. Quest'anno la multa è stata aumentata da un minimo di 223 a un massimo di 444 euro. Quindi l'automobilista di Como, piuttosto che telefonare mentre guida, che è vietato, dice, mi accosto, faccio le telefonate come è giusto che sia, mi comporto bene, non è come quelli che mentre guidano telefono, accosto, e arriva lì la polizia locale, e adesso ti do pure la multa perché hai l'aria condizionata accesa. Somma, ditemi voi se... Eh, è una legge, una legge, però... In ogni caso è bene distinguere tra sosta e arresto o interruzione della macchina. Per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Eh? Si legge nell'articolo 157 del Codice della strada. Mentre arresto o interruzione della marcia sono in genere dovuti al traffico. Quindi, se c'è il traffico, non si cammina, allora se c'è il traffico, è un problema che affligge Paliemmo e tutta la Sicilia. Il traffico non si cammina. Quindi, se siete nel traffico, non dovete spegnere e riaccendere perché potrebbe arrivare il vigile che dal finestrino cerca di capire se avete... No. Se siete in coda potete tenerla accesa, l'aria condizionata. Ma se ti metti a margine della carreggiata, soccacchi tua. Ecco, mentre arresto o interruzione della marcia sono in genere dovuti al traffico. Infine c'è la fermata, ovvero la temporanea sospensione della marcia. Anche se in aree dove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Quindi, se voi accostate la macchina per far scendere qualcuno che sta andando magari a scuola, allora lì potete tenerla accesa, no? Cioè, aspetta prima di scendere, aspetta che spengo l'aria condizionata, no? E vabbè, che vi devo dire? Insomma, a me vale una buffonata. Però, insomma, 444 euro perché hai l'aria condizionata accesa. Insomma, capisco che è una legge. Però, se tu vuoi stare in macchina e fuori ci sono 50 gradi e devi stare in macchina perché devi starci? Perché stai aspettando una persona che è andata al supermercato? Ma che fai? Devi spegnere la macchina, scendere, stare sotto il sole, aprire l'ombrello? Non puoi stare sulla tua macchina che hai comprato, con la tua benzina che hai pagato, con la tua batteria che hai pagato, ad accendere la tua aria condizionata che hai pagato con la macchina. Dice, ma stai consumando energia nella macchina? Sì, ma l'ho pagata. L'ho già pagata anche in anticipo. Cioè, l'energia che state consumando, l'avete già pagata? L'avete già pagato dal benzinaio? L'avete già comprato la batteria? L'avete già comprato la macchina? È già tutto pagato. Perché mi deve impedire di accendermi l'aria condizionata? Ma la stessa cosa vale anche per l'inverno, attenzione. Fuori c'è meno 15 perché siete nell'occhio del ciclone, della tormenta vicino Bolzano e allora se tu fermi la macchina non puoi accendere il riscaldamento. A me questa sembra una legge, a me sembrerebbe incostituzionale, però probabilmente non lo è perché l'hanno fatta. O forse chi doveva controllarla non ci ha pensato. Tu puoi dire a una macchina ferma d'inverno, con fuori la neve, spegni l'aria condizionata, se no ti do la multa. Magari sei a bordo con persone che... O tu... Perché la temperatura in macchina scende velocemente e sale velocemente secondo le stagioni. Se provate a spegnere la temperatura della macchina quando fuori sono 40 gradi, in un minuto e mezzo comincia la temperatura a essere impossibile. Quindi secondo me, a mio avviso, questa legge non è propriamente legale. Nessuno ci ha pensato che è illegale questa legge? No? Bisognerebbe riflettersi forse un po' meglio su queste cose, altro che fermarsi e dare la multa a quel poveraccio che sta facendo due telefonate. Sono proprio questi i problemi in Italia. La multa, quello che accosta per fare una telefonata con fuori 40 gradi, tu arrivi, favorisca i documenti, l'aria condizionata accesa, questo è un 444 di multa, concilia, e concilia sta fava. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.